Ciao ragazzi, benvenuti con questo vlog, io sono un soggio e ragazzi non siamo qui nella stream house Dove non hai fatto il cuore con me? Cosa dovevo dire? Dovevamo fare stream e poi tutti insieme No vabbè ragazzi, da quanto fare niente? Da come vedete ragazzi siamo qua in garage Siamo qua nello studio Dove non proprio è iniziato il tutto però Cioè dove c'è stato un bel percorso qua dentro Oh no, vero? Confermi? Si si Però una cosa, c'è un cambiamento Non ci stanno nei led Qua questa cosa si è staccato Dettagli, ma noi lo riattaccheremo Questa cosa qua dovrà rimanere sempre qua E poi non c'è il copridivano Non so dove sia andato però fa lo stesso Oggi ragazzi che cosa faremo? Faremo una bolla gigantesca dove io starò all'interno di questa bolla Mi aiuterà lui Mi accompagnerà anche lui perché è lui che c'è l'auto Stavolta io non ce l'ho Benzina anche quella Siamo un micchio Ma sei altissima Ma ti sei alzato in questi giorni? Guarda la spalla No frate, giuro, ti sei alzato un botto Eh sì? Sì Raga, andiamo al Decathlon Perché devo comprare delle determinate cose Lui non le sa però Più avanti in auto gliene dirò Ci vediamo dopo Raga Qua il mio driver mi ha appena accompagnato Al Decathlon E' pronto? Allora Assolutamente sì Sai già cosa dobbiamo andare a prendere, no? Certo Ok Ragazzi andiamo a prendere questo lulop Speriamo ovviamente di trovarlo Che costi il meno possibile Ma lo paghi tu? Ciao Andiamo ragazzi Raga, guarda qua L'abbiamo trovato È l'unico colore che c'è però Ovviamente non conta il colore Ma conta se funzionerà o meno Confermi Ma io che c***o ne so Adesso ci serve ancora il sapone E poi ci serve anche un tappetino Cioè di plastica Ok Poi vedremo se tutto questo funzionerà o meno Confermi Ok ragazzi Andiamo Andiamo a prendere questo tappetino Ma quanto voglio bene io ragazzi miei amici Che mi offrono le cose C'è un debito No no ma C'è un debito No no ma che Ma zero debito Mi sei mancato Ad offrirmi le cose Raga Ci vediamo direttamente a casa Per provare questo magnifico progetto Siamo ritornati ragazzi Qui Raga Abbiamo ovviamente Pure il tappetino Che poi ovviamente io Lo metterò Per terra Poi raga Qui abbiamo un pochettino di sapone Che per fortuna in casa già ce l'avevo così E poi che cosa andremo a fare Devo mettere il sapone sopra il tappeto Poi Farò così Mi metterò al centro Poi muoveremo questo coso qua Un pochettino E poi da lì Simone Proverà a tirare su Verso l'alto Questo lop E vedremo se la bolla Ci sarà o meno Ok Quindi fra È tutto nelle tue mani Stiamo fallendo Ok raga Proviamo Che sono davvero Troppo troppo curioso Bene bene Allora Tieni tu da una parte Quello lì Da solo Dovremmo stendere Cioè ma raga Ma è una cosa gigantesca Dovrebbe essere una cosa del genere Ok Poi Tu Dovrei avere una bella responsabilità Dovrei prima fare un pochettino Avanti e indietro E poi tirare verso l'alto Eh si può fare Si può fare Ok ragazzi L'ha detto La bufata Niente Allora Prendiamo il fanpone Che ce l'ho qua dietro Di solito questo qua di gatto Deve fare Un bel lavoro gigante In teoria sì Ok In teoria quello funziona Dai basta E se magari Poi non funziona Dove vuoi Allora vai Allora Ok Che poi raga Cioè ricordiamo Questo studio È in un garage Perciò Io già sto crepando dal freddo Ok Oh C'è simone Simone c'è Ok Allora Come prima cosa Noi dobbiamo mettere Magari dei pesetti Sul telo Così lo teniamo Non così Non così Così lo teniamo Più tirato possibile E poi Mettiamo tanto Ma tanto sapone Ok Ecco Ecco Fai Fai Provo Vai Tira Quero qui in su Ok Questo Allora Sì 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 Allora raga Ma come avete visto Abbiamo tirato Un po' Il telo Abbiamo messo Cose a caso Che ho trovato qua in garage Perciò adesso bisogna mettere Più acqua E più sapone Perché tipo È come la benzina No Giusto No 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 nel senso Che alimenta Capito Più roba c'è Meglio è Che sto congelando Allora fammi vedere Come sarà secondo te Un fail pazzesco Ma perché non sale Eh non so Guarda 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 Ma si chiude Ehi Sì Eh peccato Non so perché No Eccolo È salito fino a metà È salito Ma frago Ma non la vedi No Non l'ho vista Ma qui Guarda Bisogna fare così Far il più schiume possibile Ma c'è Non c'è C'è Da questa parte Ti fa un bollo Di fatica vedere Mi fatti lì Che leggeri Vai 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 Che lo so Fin qua c'è Vedi vai vai Ok è andata Sì raga Bisogna andare a prendere proprio Bagno schiuma Vai 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 No Cosa per fare questa cosa qui Perché ci dobbiamo Assolutamente riuscire Sei un po' Antimido Dai Allora Secondo me C'è più acqua Grazie mille C'è più acqua Che sapone Perciò Qui io Metto Un pochettino di shampoo Qua abbiamo pure Il po' di schiuma Ok Tranquillo Che non ti schizzi Niente Ho visto il tuo sguardo Dopo ho visto il piede Che si è mosso poco poco No dai Ah sì Sono nuove Sì 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 No vabbè È bellissimo Però Un po' d'acqua Sì 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 Guarda 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 Però non so se sei vista Così tanto alta Quindi perciò Il trucco è farla molto molto lenta Capito Adesso Devo mettere L'inquadratura Più lontana possibile Così Che vedete da in piedi No Arca è una figata Oh Vecchio Sì Ma metti di te Vada Vabbè Sì 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 Sono un metro e novanta Ce la fai Eh vabbè Vogliamo arrivare Almeno a metà Dai Hai favorito Vabbè Ma scialla E il punto sai cos'è anche Devo stare attento anche a non A sporcarmi No a non toccarti Devi essere il più piccolo possibile Comprimiti No In piedi Esatto Brava bravo Così è perfetto Bravo bravo Che ho preso Che ho preso quasi tutto Quasi tutto raga Porca di quella putt No no Arriga qua Oggi Stavo scivolando Oggi ragazzi Dobbiamo assolutamente riuscire No Ho un'altra soluzione Più No Questo tubo qua Ok Tagliamo questo E così dopo Il jack è ancora più grande Secondo me va Secondo me no No Vabbè Tanto al massimo Ci metto lo scotch Sempre My best friend Non sei tu Ma è lo scotch Fai tu Capito Fai tu Il mio vero My best friend Non sei tu Ma è lo scotch Ma che ho Finito No 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 Facciamo così La nostra amicizia Finisce quando abbiamo finito il video Fera vai È vero Giusto Allora raga Guardate Qua L'ho tagliato Adesso devo Solamente Appiccicarlo Oh volendo può funzionare Basta che tieni tu Verso il basso Sì dai Funziona Va bene Ciao 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 Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Mi sembra che ci fosse Sì Sì Ma ti guardo What the fuck Sì 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 Ragazzi L'abbiamo fatta Finalmente Sì Sì Dai È andata bene Sì sì È andata bene Finalmente E perciò Noi ragazzi siamo arrivati alla fine di questo vlog Se vi è piaciuto lasciatemi un like Un commento magari Fatemi sperare di come ti cosa ne pensate Ragazzi Eppure le abilità di Simone È andata bene vero Ma guarda sono lerto E perciò noi ragazzi ci vediamo al prossimo vlog Bella raga